Andrete a Luca Comics e volete sapere qualcosa di più sugli ospiti mangaka giapponesi che saranno alla manifestazione questo video fa assolutamente per voi Kiri ciao a tutti e benvenuti su questo canale io sono Kiri e parlo di manga, anime e cultura giapponese anche se ogni tanto faccio incursioni a 360 gradi sul mondo nerd se vi sarà piaciuto questo video lasciate un like e mi raccomando iscrivetevi attivando le notifiche oltre ad aprire il box informazioni qui sotto che vi dice come acquistare le vostre magliette nerd con il codice Kiri per i veri calzini in omaggio e come venire in Giappone con me per il tour di novembre sono rimasti solamente due posti partiamo subito quindi con questa breve guida a quelli che saranno gli ospiti fumettisti giapponesi al Luca Comics 2024 ce ne sono tanti nonostante ho sentito molte persone dire che è una Luca un pochino con poco hype da parte loro però effettivamente gli autori ci sono forse non c'è il nome di punta, il nome di grido come poteva essere quello di Naoki Urasawa o Hiro Mashima l'anno scorso ma ci sono tanti artisti meritevoli e adesso vi dirò qualcosa in più su ognuno di loro o almeno su quelli che conosco maggiormente partendo da Coconino Press che porterà ben tre artisti nipponici il primo è ovviamente Usamaru Furuya che ormai abbiamo imparato bene o male a conoscere negli anni è la terza volta che viene a Luca Comics e io ormai di lui ho un po' tutto ho un disegno originale che vinsi la prima volta che vende in Italia ho lo sketch su un volume, ho la firma su un altro volume quindi sicuramente però diciamo che non è sicuramente quello dove andrò per primo le sue opere sono meravigliose assolutamente se non le conoscete io vi consiglio di leggerne qualcuna la musica di Marie è un volume unico splendido Palepoli è un volume unico assolutamente fuori dagli schemi che veramente rompe qualsiasi regola del fumetto giapponese a Luca ci sarà la nuova edizione di 51 modi per salvarla che è un'opera molto interessante anche se molto probabilmente non tra le migliori del maestro Furuya e insomma ce ne sono davvero tante di opere bellissime che ha fatto il maestro Furuya come ad esempio anche Garden sempre in volume unico oppure Amanegymnasium che dovrebbe concludersi proprio a Luca e sempre per Coconino ci saranno altri due autori molto molto interessanti il primo è Baron Yoshimoto un decano dei manga che ha pubblicato tantissime cose in Giappone in Italia ne sono arrivate un pochino meno ma stanno cominciando ad arrivare ad esempio a Luca verrà pubblicata una delle sue opere più importanti che è la leggenda del Judo anzi forse quella più importante della carriera di questo autore un'opera molto molto lunga che si divide in diverse saghe e le altre opere pubblicate in Italia sono La Belva nell'ombra per Coconino e Seventeen una raccolta di storie sull'adolescenza, sulla giovinezza che venne pubblicata da J-pop e sicuramente per conoscerlo quest'ultima secondo me è la più indicata poi sempre per Coconino ci sarà Yamada Sanske un autore di un'opera che secondo me è tra le migliori pubblicate negli ultimi anni ovvero Polvere di stelle che è un racconto che ci porta direttamente negli anni successivi alla seconda guerra mondiale e ci fa veramente indagare tantissimo a fondo su quelli che sono i pensieri su quelli che sono i risvolti anche spirituali delle persone che hanno subito una guerra devastante come quella quindi davvero davvero tanta roba e per quanto riguarda Sanske appunto questa è l'unica opera pubblicata al momento in Italia ma mi immagino che avendo l'autore lì ospite potrebbe appunto essere una tra le cose annunciata a Luca Comis una delle sue altre opere sogni da sempre di andare in Giappone? vorresti farlo con altri appassionati di anime e manga come te? questa è l'occasione che aspettavi visita il Sol Levante insieme a me e tanti altri appassionati andiamo alla scoperta dei quartieri più cool come Akihabara e dei luoghi più affascinanti come Asaksa dei parchi immersi nella natura come Nara e dei quartieri nerd come Nakano Broadway insieme a mille altre esperienze bellissime sono disponibili tre opzioni di viaggio per tutte le tasche a novembre 2024 e ci sono ancora posti disponibili ma affrettati le prenotazioni chiudono il 20 settembre vai al link in sovraimpressione oppure qui sotto in descrizione per scoprire tutte le info e il programma e se hai bisogno di altre delocitazioni scrivi pure a me o all'agenzia per quanto riguarda J-pop ci sarà Goutanabe che è un autore particolare nel senso che comunque tutti i suoi manga arrivati in Italia e comunque quelli su cui concentra la sua carriera sono adattamenti delle opere horrorifiche di H.P. Lovecraft un autore assolutamente amatissimo da tutti i fan dell'orrore cioè non da tutti ovviamente ma da tanti fan dell'orrore e devo dire che le opere di Lovecraft negli adattamenti di Tanabe assumono una connotazione molto molto particolare ma interessantissima perché i suoi disegni sono veramente incredibili ci sono alcune tavole che veramente riescono a entrarti dentro e quindi spero proprio di riuscire ad avere un suo sketch perché insomma sarebbe molto molto interessante io ho letto diverse tra le sue opere credo quasi tutte tra quelle arrivate in Italia ma la più importante secondo me che è anche un pochino quella un po' simbolo di Lovecraft diciamo è il richiamo di Tulu tra l'altro disponibile anche in una bellissima edizione deluxe con molta probabilità l'autore che mi interessa maggiormente a Luca Comics 2024 per quanto riguarda i manga che ovviamente è Akane Torikai un'autrice veramente incredibile bravissima secondo me che riesce a portarti dentro anche alle cose più disagiate della storia personale di ognuno di noi in particolare di quelle che riguardano le donne perché lei naturalmente racconta il punto di vista femminile diverse sono le sue opere pubblicate per Dinita appunto come Saturn Return una delle più importanti oltre all'arcobalino e altre storie Un amore da manga che è il suo diario ma un'opera davvero meravigliosa secondo me è stata pubblicata poi da Planet Manga ovvero la professoressa Mente una delle opere più crude e davvero difficile da leggere in certi momenti dell'opera stessa quindi un'autrice molto molto brava di cui sono curiosissimo di sentire anche aneddoti e cose varie in quelli che spero saranno showcase e cose del genere un altro autore molto interessante verrà ospitato da Saldapress ovvero Atsushi Kamijo di questo autore abbiamo avuto due opere al momento in Italia e una terza verrà pubblicata a Lucca ovvero a Kakuro un'opera sulla box mentre le prime due che abbiamo già avuto modo di leggere sono Toy e Sex Sex mi ha detto meno sinceramente forse perché in quel momento non ero tanto propenso a leggere qualcosa di così stralunato a livello di narrazione non molto lineare mentre Toy mi è piaciuto tanto un manga ambientato nel mondo della musica ma che comunque maggiormente ci parla della vita dei protagonisti tra cui ovviamente più di tutti il protagonista stesso che insomma è un ragazzo un po' ribelle i suoi disegni sono davvero molto interessanti tanti autori e autrici come ad esempio Aya Zawa hanno preso ispirazione dalle sue opere e quindi insomma sono davvero curioso di vedere cosa tirerà fuori per Lucca Comics per quanto riguarda Panini Comics Planet Manga devo dire che non conosco bene i due autori Yuto Tsukuda e Shun Saeki che sono gli autori di Food Wars un'opera della quale so pochissimo ho letto il primo volume del manga ho visto qualche episodio dell'anime però diciamo che non mi ha mai preso più di tanto quindi non so dirvi davvero molto su questi due autori anche perché credo proprio che nient'altro di questi mangaka sia arrivato in Italia quindi su loro scusatemi ma non vi so dire niente poi ci sarà il sempre buon Shintaro Kago ospite per All Oppress insomma lui è venuto in Italia tantissime volte ormai è quasi ospite fisso di Lucca Comics sul mio canale c'è la prima intervista che ho fatto proprio a Shintaro Kago nel senso che è stata la mia prima intervista tutta improvvisata un momento che mi ricorderò per sempre e le sue opere sono incredibili secondo me quella più rappresentativa rimane ancora uno scontro accidentale sulla scuola no uno scontro accidentale per andare a scuola può portare a un bacio che è veramente una totale destrutturazione del manga una roba fantastica lui è un maestro dell'eroguro quindi a metà tra l'erotismo il grottesco ma in realtà secondo me di erotismo c'è ben poco perché è difficile eccitarsi con certe situazioni quindi vi consiglio di scoprirlo di almeno provare a leggere qualcosa di suo poi magari per molti di voi potrebbe non fare a caso vostro però è sicuramente molto interessante poi il fatto che lui comunque faccia anche dei ritratti dal vivo a pagamento quando è ospite delle fiere io infatti ce l'ho ed è veramente fighissimo può portare a diverse esperienze davvero interessanti e infine per quanto riguarda Star Comics ci sarà Kyotaro Azuma un autore di cui purtroppo sappiamo ben poco perché comunque l'opera che ha disegnato ovvero Versus e anche Tenkaichi che è un'altra opera precedente verranno pubblicate da Star Comics proprio a Luca Comics quindi effettivamente non possiamo sapere nulla anche perché altre opere non sono state pubblicate di questo autore sicuramente avrei preferito One che è proprio lo sceneggiatore di Versus oltre che disegnatore anche di altre opere pubblicate sempre da Star Comics come Mob Psycho 100 però probabilmente insomma era più difficile averlo e questo è quanto per gli autori giapponesi poi sicuramente ci sono tanti altri autori che potrebbero interessarvi anche tra quelli italiani che fanno manga come Leonardo Berghella e Alessandro Starasci gli autori di Dada Adventure che secondo me è uno dei manga italiani più belli in assoluto tutti gli autori cinesi che vengono pubblicati da Giundo gli autori taiwanesi coreani e quant'altro che vengono pubblicati da Toshio Khan ce ne saranno tantissimi tra i quali vi raccomando di tenere d'occhio anche e soprattutto Stefano Tamiazzo che è un autore che sarà ospite appunto per Toshio Khan editore per il quale pubblicherà un'opera che sembra molto molto interessante tanto Ghibli Style Miyazaki Style più che altro che si chiama niente succede per caso e i suoi disegni mi fanno veramente impazzire quindi è uno dei volumi che usciranno a Luca che mi interessa maggiormente e questi sono gli autori giapponesi che saranno in quel di Luca Comics fatemi sapere quali sono per voi i più interessanti qui sotto con un commento e anche se volete altre info naturalmente se il video vi è piaciuto come vi dicevo lasciate un bel like è gratis iscrivetevi al canale attivando le notifiche è gratis pure quello e aprite il box informazioni noi ci vediamo al prossimo video e ciao grazie a tutti Grazie.